La richiesta di riconoscimento del fratelli Parlapiano, già Covid Hospital come ospedale di zona disagiata, sarà al centro della riunione di mercoledì 14 dicembre della Commissione Salute dell'Ars. Lo ha annunciato questa mattina il parlamentare Carmelo Pacioche della Commissione Vicepresidente Vicario. Un ospedale, quello di Ribera, evidenzia il deputato della DC che interessa una popolazione di oltre 50.000 persone di cui un'ampissima parte risiede in comuni montani e premontani in una situazione quindi alquanto disagiata. Ciò che a gran voce viene richiesto dai comitati, dai sindaci, dalle istituzioni e del territorio che interverranno all'audizione è il riconoscimento di ospedale di zona disagiata con la presenza non solo del pronto soccorso ma anche dei reparti essenziali come quello di medicina, di chirurgia e di cardiologia. Il parlamentare Ribera ospica che questo riconoscimento possa garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute, a una maggiore efficienza e a una maggiore qualità dei servizi sanitari erogati perché, come ho già detto nel mio primo intervento in aula, rivolgendomi al Presidente della Regione Renato Schifani, conclude Pacio, non possono esserci siciliani di serie A e siciliani di serie B e tutta la popolazione deve godere della medesima offerta sanitaria. Ribera e il territorio dei 12 comuni circostanti sono pronti a portare avanti questa battaglia, lo hanno ribadito sindaci, presidenti dei consigli comunali e comitati nel corso della riunione che si è svolta mercoledì pomeriggio nel Palazzo Municipale. Dopo l'ampia discussione si è focalizzato quello che bisognerà chiedere alle autorità competenti che sono i parlamentari della provincia del Reggimento Regionali, la Commissione Sanità e l'assessore regionale alla salute. Da troppo tempo abbiamo una carenza di offerta sanitaria e dobbiamo assolutamente rilanciare l'offerta sanitaria nel nostro territorio per soddisfare i bisogni di salute che vengono richiesti dalle nostre comunità e dai nostri concittadini. C'è una piattaforma di richieste molto dettagliata che riguarda non soltanto il nostro ospedale, al primo punto la riapertura del nostro pronto soccorso, ma anche il vicino ospedale per garantire una complementarietà di servizi sanitari alle nostre comunità. Questa è una battaglia che tutti insieme, primi cittadini, consigli comunali e nostre comunità, vogliamo portare avanti per ottenere risultati che tutti ci aspettiamo. La presenza di tutti i sindaci, dei presidenti dei consigli e quindi di tutti i consiglieri comunali del territorio è significativa perché è vicino ai nostri cittadini, è vicino a chi ha bisogno in questo momento di avere una risposta di salute. Viviamo in delle zone estremamente disagiate, con una viabilità precaria, con problemi di natura idrogeologica, con una situazione di disagio reale che ci porta a essere quasi abbandonati, possiamo dire, dalle istituzioni. Oggi noi compiamo un gesto importante, cioè diciamo tutti basta e tutti assieme siamo pronti a tenere alta la bandiera dei nostri ospedali, sia di quello di Sciacca che di quello di Ribera, cercando in tutti i modi di raggiungere gli obiettivi che sono alla portata di tutti. In quanto c'è un'unanimità, 12 sindaci, 12 presidenti dei consigli, tutti i consiglieri comunali, i comitati civici, la cittadinanza sono pronti a scendere anche in piazza giorno 19 dicembre, in quanto è organizzata una manifestazione con la quale faremo sentire la nostra voce. Oltre all'audizione di mercoledì 14 dicembre in Commissione Salute dell'Ars è già stata da tempo programmata la manifestazione a sostegno dell'ospedale di zona disagiata. Si svolgerà a Ribera lunedì 19 dicembre, cioè in atto una vera e propria mobilitazione da parte del Comitato zona disagiata, anche un video per invitare tutti a partecipare. Sull'ospedale di Ribera è stata presentata inoltre una interrogazione da parte del gruppo parlamentare del PD. Si chiedono chiarimenti, ha scritto il capogruppo Michele Catanzaro, in merito alla risoluzione delle diverse criticità che investono il Fratelli per la Piano. Si evidenzia inoltre come la situazione di carenza di servizi e una organizzazione non adeguata alle esigenze sanitarie del vasto territorio riberese determinano un sovraccarico di accesso al vicino ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, che affronta anch'esso difficoltà, soprattutto dal punto di vista della carenza di personale. Grazie. Grazie. Grazie.